In collaborazione con YK Robotics, presentiamo un progetto di ottimizzazione produttiva che ha visto l'installazione di due alimentatori flessibili Flexible 800, dotati di disco a 5 settori, integrati con un robot ABB a 6 assi. Il sistema permette la gestione di 10 componenti metallici diversi contemporaneamente. La disposizione delle tramogge è innovativa. Si è optato per un layout parallelo esterno all'area dell'alimentatore. Questa scelta ha consentito un processo di scarico controllato e ordinato attraverso l'utilizzo di un nastro trasportatore che ha assicurato un flusso costante dei componenti. Il cambio rapido di produzione permette di gestire ulteriori 10 pezzi, arrivando, così, ad un totale di 20 componenti gestiti da un'unica linea, il tutto in un layout compatto.